Ho sentito dire che hai un problema molto grande Purtroppo, che cosa dovrei fare? Ma hai sentito la frase Resta di stucco, è un barbatrucco Lei è tornata Ma chi? Lucy? Io parlo di Cristina Ah, Cristina, ma Cristina quale? Cristina Lebon o Cristina quale è luce? La prima Santo cielo, la tua ex? La mia ex Gianni, lei è stupenda Oi? Vuoi rovinare tutto per colpa della tua ex? No! E allora non fare cazzate, confido in te Ciao Ale Quindi sei fidanzato? Beh, non è una storia importante E da quanto tempo ci stai? Beh, due anni e mezzo Due anni e mezzo non sono importanti, perché? Beh, per me no C'è un problema con tuo fratello Vale, quella cosa sta degenerando Non sono venuto qui per sentire la tua predica E te la senti invece? Ma stai la cosa giusta Ora faccio io Continuo a giocare con la tua Megan Fox in miniatura Guarda che io non voglio rovinare la vita a nessuno Sto decidendo di lasciarla oppure no E perché? Cioè, quali sono i due motivi? Uno dei motivi principali Sei... Scusa, un secondo Vattene via! Ma perché? Non l'hai sentita? Vattene via! Ci sto troppo male La cosa bella di un vaso che si ru... È che si può aggiustare, giusto? Te l'ho detto Tutto si aggiusta Perché come dissi un gran filosofo Come dissi un gran filosofo Esatto Cominciamo bene A bifida Grazie a tutti